Una partnership per crescere con lo sport ormai protagonista a Taranto, l'iniziativa di Taranto 25 che anche per quest'anno rinnova con diverse associazioni del territorio questa collaborazione, se ne aggiungono altre, siamo a quota oltre 30, è vero? Sì, devo dire che è molto emozionante vedere questa immagine che ci dà anche visivamente la dimensione di quello che abbiamo fatto in questi tre anni. Nel 2020 sostenevamo 14 società della città, stasera arriviamo a 31, è un passaggio importante, vuol dire in tre anni quasi aver triplicato il numero delle società che sosteniamo. Questo vuole essere un messaggio a tutti noi, no? Si dice a volte che nella nostra città è difficile fare rete e questa è la dimostrazione vivente che non è vero. Diamo un sostegno economico perché abbiamo soprattutto negli anni della pandemia capito che sport erroneamente definiti minori avrebbero un po' corso dei rischi a non avere un sostegno economico. Ma accanto a questo cerchiamo anche di comunicare quelle che sono le attività delle società sportive. È bellissima poi la sinergia che stiamo facendo tra nove scuole della città e le società sportive.